Gesù, ti chiediamo oggi, festa della famiglia e all'inizio di questo ritiro, di poter vivere l'essere famiglia come l'eredità di Chiara, che questo ritiro sia una palestra nella quale ci alleniamo per poi uscire e portarlo a tutti. Chiediamo a te, Maria, Madre nostra, di insegnarci la docilità, la speranza, il disinteresse, il perdono illimitato. In poche parole, di essere un'altra te l'uni per gli altri. Ti chiediamo di mantenere vivo lo scopo per cui Dio ha fatto nascere la nostra famiglia, l'opera. Testimoniare l'unità. Dio ha fatto nascere la nostra famiglia.